Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del telegiornale sarà dedicata alla protesta che si è registrata questa mattina a Gela dinanzi al Comune. Hanno manifestato il loro malcontento gli operai del reddito minimo di inserimento. Vediamo per quale motivo. Protesta dinanzi al Comune di Gela. L'ennesima, questa volta a far sentire la loro voce, sono stati lavoratori del reddito minimo di inserimento, 78 unità. Per motivi burocratici, nel mese di gennaio non hanno svolto alcuna attività lavorativa in attesa che dalla Regione venisse garantita la copertura finanziaria. Chiedono all'amministrazione di poter recuperare le ore perse a gennaio nei mesi successivi. Sappiamo che dalla Regione è stato finanziato da gennaio ad aprile e non c'è stato versato questo mese. In pratica ci hanno detto che ci daranno soltanto l'anticipazione del mese di febbraio, cosa che noi ancora non abbiamo completato. Noi dovremmo dare le 80 ore che ci hanno fatto perdere per via della burocrazia. Noi chiediamo i nostri diritti perché abbiamo bisogno di mangiare. Da dicembre non vediamo un centesimo. Noi oggi, visto che il sindaco è convinto che a noi ci piace chiamare la stampa e fare i teatrini, allora diciamo al sindaco che in anticipazione è che se oggi non include qualcosa ci leghiamo tutti là sopra e portiamo anche la famiglia. Perché siamo stanchi, perché i figli hanno fame, devono andare a scuola, non hanno il panino, non hanno i libri, non hanno niente. Quindi deve provvedere in qualche modo. Non esistono solo gli altri, esistiamo anche noi. Da 14 anni che facciamo la fame. Il sindaco ci ha promesso che non ci doveva fare perdere il mese di gennaio. Noi ancora non abbiamo né carta scritta, dice solo chiacchiere, perdiamo tempo a venire qua invece di andare a lavorare, dobbiamo prendere il permesso, ci levano le ore di lavoro. Ma noi siamo stanchi. A casa i nostri figli stanno soffrendo. Chi perde la casa, chi ha uno sfratto, chi non può pagare l'assicurazione della macchina, siamo stanchi. Sull'argomento abbiamo raccolto la versione dell'assessore comunale al bilancio, Fabrizio Morello. Lo sentiamo. È necessario precisare come, di fatti, gli MRMI dal primo febbraio siano effettivamente scesi a lavorare. La fattispecie, quindi la manifestazione odierna, è legata ad una garanzia relativamente a quello che può essere il mese di gennaio. Per cui rispetto a questo stiamo verificando con i dirigenti e poi lo verificheremo anche con l'assessorato regionale. Speriamo in tempi brevi, almeno da parte nostra, è quello di potergli dare una risposta in tempi brevi. Per cui è strana, non ce l'aspettavamo, perché comunque il primo febbraio ha precisato che gli stessi sono già scesi regolarmente al lavoro. Però loro sostengono che c'è la copertura finanziaria da parte della Regione e dunque adesso tocca al Comune. Loro lo sostengono, noi riprendiamo atto, siamo anche noi convinti che possa essere così. Però, siccome non siamo a casa nostra, ci sono degli itere e delle cose che devono essere necessariamente rispettate. Per cui speriamo e ci auguriamo che insieme ai dirigenti di riuscire in tempi brevi in questo e potergli dare la risposta in tempi cederi. Piazza Municipio è divenuta oramai piazza delle proteste. Tutti chiedono interventi immediati alla Giunta Comunale. Questa è una città in cui lo stato di bisogno, la situazione è così complessa e difficile che dire che non ce l'aspettiamo è francamente dire, per certi versi, anche una mezza bugia. C'è una situazione difficile in questa città e quindi spesso la protesta diventa anche un modo da parte di tanti di provare ad accelerare determinati percorsi. È giusto, è giusto che sia così, però è un fatto oggettivo nel senso che la situazione in questa città è parecchio complessa. Dunque possiamo dare una data a chi protesta per la risoluzione del problema? Ci riferiamo agli RMI. Speriamo, ripetisco, che nei primi giorni della prossima settimana riceviamo anche noi degli riscontri oggettivi e potergli dare concretamente una risposta. E questa mattina sit-in di protesta anche da parte delle 70 donne addette al servizio Mensa, il cui servizio nonostante sia stato appaltato, rimane ancora fermo. Abbiamo sentito l'assessore comunale e i servizi sociali, Licia Abela. Assessore, per quale motivo ancora non è partito il servizio di rivelazione scolastica e dunque, giustamente, chi lavora in questo settore protesta al comune? Le motivazioni per cui non è partito il servizio Mensa sono in realtà molteplici. Io posso rispondere per quanto riguarda la durata del mio mandato e quindi di conseguenza anche nella gara della segnazione per la rivelazione scolastica riferita al 28 gennaio. Siamo in una fase dove stiamo valutando la congruità di quello che è stato dichiarato in una serie di gara e quindi di conseguenza passare all'assegnazione definitiva e sicuramente facilitare tutte quelle che sono le procedure per fare in modo che le lavoratrici possano riprendere il servizio prima possibile, così come anche gli alunni e le scuole riprendere la normalità che è necessaria. Quindi dal punto di vista della volontà amministrativa e politica e anche da quello che è il nostro progetto è quello di portare entro poche settimane se non giorni addirittura il risultato dell'inizio della rivelazione scolastica. Lei per ieri aveva convocato la ditta che si è giudicata in via provvisoria e il servizio di rivelazione scolastica. Che novità abbiamo? Sì, abbiamo proceduto a effettuare il giro di ricognizione dei centri di cultura. Siamo in attesa di ricevere le ultime rassicurazioni e le ultime certificazioni per quanto riguarda il punto di vista sanitario e quindi a breve potremmo essere in condizioni di far cominciare il servizio. Ovviamente non mi sento di poter porre una data, così come ho già detto oggi, alle lavoratrici che giustamente a buona ragione protestano per il mancato inizio del servizio, perché comunque, come si sa bene purtroppo, l'apertura di una procedura di gara comporta diverse fasi che portano a delle lungaggini non spesso gestibili sotto questo punto di vista. Non si possono dare delle date certe perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. È pur vero che si sta procedendo con una massima celerità perché gli interessi in gioco sono sicuramente tanti. Presidio anche dinanzi la sede dell'Inps da parte dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni. Vediamo. Dall'ufficio delle entrate alla sede dell'Inps cambia la location ma non il contenuto. Dopo il sit-in di lunedì scorso, gli operai dell'indotto dello stabilimento Eni si sono spostati in via Torino dinanzi ai locali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Fermi da tre anni, i dipendenti delle imprese appaltatrici chiedono all'Eni il rispetto degli accordi sottoscritti e l'avvio dei cantieri per la riconversione green della raffineria, passando dal petrolio alla produzione di biocarburanti. Tanti incontri di verifica dell'intesa e propedeutici alla firma di un accordo di programma hanno finora prodotto soltanto una proroga della Cassa Integrazione per i primi tre mesi di quest'anno. L'avvertenza Gela ormai è diventata una protesta itinerante. Oggi avete presidiato uno degli istituti principali del nostro ordinamento. Sì, siamo qui per dire ancora una volta che bisogna fare in fretta perché questi lavoratori attendono il pagamento degli ammortizzatori ordinari in deroga. E uno di quei punti messi e inviati al Ministero è proprio questo, accelerare gli iter autorizzativi per pagamento degli ammortizzatori sociali. E non solo, decontribuire anche alle imprese l'accesso agli ammortizzatori sociali. Perché voglio ricordare ancora una volta che ci sono aziende che possono attivare gli ammortizzatori sociali ma non lo fanno perché il costo è diventato eccessivo con la nuova riforma del lavoro. Quindi bisogna decontribuire l'accesso agli ammortizzatori sociali per permettere a questi lavoratori di avere almeno un sussidio. Sussidio che ancora una volta noi vogliamo fosse più breve possibile perché vogliamo l'attivazione di quegli investimenti che sono programmati nel protocollo. Quindi diciamo alla politica regionale e nazionale facciamo in fretta per questi lavoratori che stanno soffrendo. Voi in prima battuta chiedete che vengano riattivati e si possa attingere agli ammortizzatori sociali ma in realtà il vostro obiettivo è l'investimento serio? Non vorrei che questo sitino all'Inps passi il messaggio che i lavoratori sono qua per gli ammortizzatori sociali. È evidente che sono qua per la vertenza Gela che è man mano increscente. La sede dell'Inps è una sede istituzionale in cui ovviamente rientrano nella vertenza Gela che le date importanti voglio ricordarlo sono quelle del 18 e del 24 al Ministero. È chiaro che ci sono collaboratori che stanno ancora arrancando con gli ammortizzatori sociali che sono in scadenza. Emblematicamente chiaramente la sede opportuna è anche quella dell'Inps. Niente togliente al lavoro che stanno facendo i funzionari dell'Inps ma è chiaro che bisogna anche sburocratizzare e rendere più cedere determinate pratiche affinché i lavoratori non arrancano con tutte le situazioni che ci sono. Anche il sindaco di Gela ha partecipato ieri pomeriggio a Vittoria all'assemblea promossa dal suo collega Giuseppe Nicosia alla Fieremaia contro la crisi dell'agricoltura. I primi cittadini della fascia trasformata, i sindacati, le associazioni di categorie e gli agricoltori hanno lanciato l'allarme del comparto alle istituzioni europea, nazionale e regionale. Per il Parlamento di Bruxelles era presente Michela Giuffrida, eurodeputato componente della Commissione Agricoltura. Contestato l'accordo euro-mediterraneo con il Marocco e invocate misure urgenti e straordinarie. Domenico Messinese e i sindaci di Vittoria, Niscemi, Acate, Rosolini e Pachino hanno sottoscritto un documento unitario in cui si chiede il taglio temporaneo del costo del lavoro e la sospensione dei pagamenti e degli oneri fiscali alle imprese agricole. Infine, alla luce della riconosciuta insularità da parte dell'Unione Europea, è stata chiesta la riduzione o addirittura l'azzeramento della fiscalità che grava sull'agricoltura siciliana come compensazione dei maggiori oneri previsti. Le rivendicazioni sono state inviate ai governi nazionale e regionale e all'Unione Europea. I gelesi che hanno richiesto di fruire del servizio di assistenza domiciliare devono presentare entro il prossimo 12 febbraio all'Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Gela l'attestazione in corso di validità dell'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Abela. Il mancato adempimento agli sportelli di Viale Mediterraneo invaliderà l'istanza inoltrata lo scorso mese di gennaio da ultra 65 anni e portatori di handicap gravi e quali è riservato il servizio di assistenza domiciliare mediante voucher sociale. Corso base per sviluppatori Android organizzato dal gruppo GDG. Quali sono le competenze che possono essere conseguite e a chi è rivolto questo corso base? Sì, il Google Developer Group Gela per il secondo anno consecutivo organizza la Study Jam. La Study Jam è un ciclo di gruppi di studio organizzati direttamente da Google a livello mondiale a cui noi aderiamo e diamo la possibilità a chi fa parte della nostra community di poter fare questo corso. Il corso è un corso base, quindi anche chi è alla prima esperienza di programmazione può partecipare ed è completamente gratuito. Il corso si sviluppa online, quindi bisogna seguire delle lezioni online e poi noi faremo un incontro a settimana per dare supporto a chi partecipa. Si comincia oggi? Sì, esattamente, si comincia oggi. Per tutti coloro che ancora non si fossero iscritti, ricordiamo il link di iscrizione nella nostra pagina Facebook Google Developer Group GDG Gela. È un semplice form nel quale chiediamo mail dove mandare poi le istruzioni per come partecipare al corso. Il corso ovviamente dà anche l'opportunità di prendere una certificazione data da Google gratuita alla fine che attesta appunto la buona riuscita di questo corso. Ricordiamo l'evento di oggi che è alle 18.30 al Palacademy di Via Gaviaga a Macchitella. Avete già avuto diverse adesioni? Sì, quest'anno è un boom di iscrizioni, possiamo dire. Siamo già attorno alla cinquantina, però divise in tutto il Sud Sicilia. Di fatto il GDG è diventato un punto di riferimento dell'innovazione per il Sud Sicilia. Infatti abbiamo raccolto iscrizioni, abbiamo organizzato per loro degli eventi appositamente da Ragusa a Licata. È possibile presentare la domanda per la disoccupazione agricola relativa all'anno 2015? L'istanza può essere presentata da tutti gli operai agricoli che abbiano conseguito almeno 102 giornate lavorative nel biennio 2014-2015. La domanda deve pervenire in via telematica alla sede IMS competente entro il 31 marzo prossimo. Tutti i lavoratori agricoli possono rivolgersi presso gli uffici del CAF Italia. In corso Salvatore Aldisio 39 a Gela, accanto alla villa comunale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. C'è anche un numero di telefono al quale si può chiamare 0933 90 85 36. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Torniamo tra poco. Restate con noi. Sono aperte le iscrizioni all'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia di Gela. Per informazioni contattare i numeri di telefono 0933 91 4419 oppure 340 724 9566 oppure inviare una mail a giubbeditalia.hotmail.com Lodevole è l'iniziativa di intitolare la strada statale 640 la strada degli iscrittori, ma per la città di Caltanissetta tutto questo è una vera e propria beffa, dato che di fatto è tagliata fuori da tale iniziativa. Sono parole queste del consigliere comunale Salvatore Licata, che si scaglia contro la decisione di qualche giorno addietro da parte dei vertici dell'ANAS di cambiare nome alla 640 in onore a quell'itinerario che ripercorre i luoghi vissuti e amati dagli iscrittori siciliani. Tutto ciò è una provocazione per la città, continua Licata, solo con una serie opera infrastrutturale di collegamento tra la 640 e la zona est della città. Potremmo parlare di un progetto di valenza turistica ed economica del quale anche Caltanissetta sia concretamente protagonista. Eliminare quest'opera sia un danno per una città e una provocazione quando si parla di valorizzazione turistica ed economica della città. L'ANAS, in un recente incontro, ha detto che i vari svincoli verranno intitolati agli iscrittori. Per esempio, per Racalmuto lo svincolo verrà chiamato svincolo sciaccia. E per Caltanissetta, se lo svincolo manca, come vorremmo valorizzare l'aspetto turistico, la storia letteraria della città? Voglio ricordare che quella strada, la strada di cui parlo, che appunto collegherebbe la 640 a Santo Spirito porterebbe gli avventori, gli stessi cittadini nisseni, a raggiungere il centro storico attraverso la via Xiboli in pochissimi minuti. Tra l'altro verrebbe valorizzata una zona che è appunto quella in cui insiste la via Xiboli e il villaggio Santa Barbara, che sono zone ahimè dimenticate, ahimè isolate nell'ambito della città di Caltanissetta. Tra l'altro quella strada andrebbe a valorizzare il museo archeologico, la stessa abbazia di Santo Spirito, piuttosto che per esempio l'abbadia che in passato è stato chiamato parco letterario proprio di Regalpetra pensando, rievocando appunto un'opera di Leonardo Sciaccia. Dico, le opere di compensazione si sono ridotte a una somma complessiva di 4 milioni e 500 mila euro. Ho qualche dubbio che si possano realizzare le opere che sono state inserite nei tavoli compensativi. E adesso la nostra consuetta rubrica in breve, vediamo. Domenica 14 febbraio Nel locale di Palazzo Ducale, in Piazza Calvario, sarà presentato il libro scritto dall'ex presidente della regione siciliana, Totò Cuffaro, dal titolo L'uomo è un mendicante che crede di essere un re. Interverranno oltre all'autore Rita Bernardini, già presidente dei Radicali, e l'avvocato Giacomo Ventura, presidente della Camera Penale. Modererà i lavori la giornalista della Sicilia, Maria Concetta Goldini, concluderà la professoressa Lina Orlando, amministratore della Libreria Mondadori di Gela. L'appuntamento è previsto per le ore 10. La sottosezione dell'unità al Sidi Gela celebra la giornata mondiale del malato. Giovedì 11 febbraio, giornata mondiale del malato in Chiesa Madre, con la presenza del personale volontario e delle varie associazioni di volontariato. e domenica 14 febbraio celebrazione eucaristica presso la Casa di Cura Santa Barbara. Comincia anche per la Fidas Adas di Gela la settimana dedicata alla festa di Chi si vuole bene. In occasione di San Valentino, ricorrenza che sarà celebrata domenica 14 febbraio, al centro di raccolta fisso di Via degli Appennini numero 5, si terrà una speciale raccolta di sangue, dedicata alle coppie che vorranno donare nella stessa giornata. Ad accoglierle i volontari che doneranno gadget scelti per la ricorrenza. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte, il 17 febbraio prossimo. Laboratorio teatrale per adulti e bambini è promosso dall'Associazione Culturale Demetra, presieduta da Maria Giannone. Il primo incontro gratuito si terrà oggi alle 18.30 presso il Palazzo Pignatelli di Gela. Gli incontri settimanali avranno una durata di 5 mesi con docenti di provata esperienza. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato il direttore artistico e Maurizio Nicastro. Preziosa la collaborazione di Croce Attardi, responsabile della compagnia Sipario 21. Sono due i film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela, alle 17.30 e alle 19.30, Carol, alle 21.30 il Ponte delle Spie. Con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie, arrivederci.